151 Ritrovarsi attraverso Mario del Giglio Guida Voglio ora aprire un discorso che poi si potrà approfondire riguardo eventi che accadono sulla Terra Siamo sempre pronti a criticare Dove è Dio? Come può permettere queste cose? Ebbene, il concetto di spirale ci aiuta a comprendere che tutto già esiste Tutto è in continua evoluzione ma al tempo stesso è già esistente prima ancora che si abbia la capacità di comprendere quanto sia grande l'esistente Questo discorso deve essere prima compreso, assimilato e successivamente messo in pratica è fatto proprio fino a diventare patrimonio di tutta la famiglia spirituale Quindi tutto già esiste ma non abbiamo ancora sviluppato la necessaria consapevolezza per avere la visione del tutto e per apprezzarla Trovare le parole giuste diventa complicato Ma come sempre cerchiamo di darvi degli spunti per approfondire La luce esiste Ma ampliando il nostro orizzonte eliminando gli ostacoli materiali che sono le barriere create da noi stessi Solo allora potremo vedere quella luce che rischiarerà a tutti noi la bellezza del creato senza rivalità e dualismi e ci darà la visione di un solo essere che governa il tutto Grazie a tutti